E qui inizio richiamando la tradizionale lista di quelli che la tradizione orientale chiama i pensieri malvagi, che noi siamo abituati a denominare vizi capitali. Ecco, sono otto secondo questa lista. Il primo è la gola, poi la lussuria, l'avarizia, la tristezza, l'ira, l'acidia, la vanagloria, l'orgoglio. Dunque, l'avarizia è posta all'inizio, tra i primi tre pensieri che intaccano il cuore dell'uomo, che formano, appunto, un trio abbastanza resistente, un intreccio, potremmo dire, di passionalità che diventa un terreno fecondo per la crescita di tutti gli altri pensieri malvagi. Copresentando, in fondo, tutte e tre la stessa dinamica caratterizzata da una oscillazione tra bisogno e possesso, questi pensieri malvagi appaiono come una triplice porta attraverso cui entra, nel cuore dell'uomo, quella bramosia che conduce progressivamente alla crescita smisurata dell'io, a quella idolatria di se stessi che gli antichi monaci chiamavano filautia, cioè questo amore smodato di sé. E con i primi tre vizi cambia l'oggetto su cui si posa lo sguardo passionale dell'uomo, il cibo, il corpo, il denaro. Ma medesima è l'avidità con cui l'occhio brama di ottenere l'oggetto del suo desiderio. Ingordigia, gola, lussuria, avarizia sono dunque le tre maschere della passione del possesso, dell'avidità. E tra queste tre passioni, però, l'avarizia assume un ruolo del tutto particolare. E potrebbe essere definito con un testo dell'Apostolo Paolo, che nella tradizione è diventato un po' la chiave interpretativa per valutare la portata di questo pensiero malvagio. Paolo fa questa affermazione nella prima lettera di Timoteo, al capitolo 6, versetto 10. «L'avidità del denaro è la radice di tutti i mali». Ecco, sorprende questa espressione un po' categorica di Paolo. Certo, se viene messa nel suo contesto, esprime la relazione tra l'avarizia e tutti i disquilibri sociali che affliggono le relazioni tra gli uomini. E qui Paolo, in particolare, admira una strumentalizzazione della religione a scopo di guadagno, una smodata di avidità di ricchezza. Tutto questo provoca invidie, litigi, maldicenze, sospetti cattivi, conflitti tra gli uomini. Però l'Apostolo dice che è la radice di tutti i mali, anzi, del male. Dunque sembra che l'avarizia debba essere collocata non al terzo posto, ma al primo, apparendo così come la causa di ogni altro pensiero malvagio. Però c'è un altro testo della scrittura che dà questo primato ad un altro vizio, l'orgoglio, la superbia. Ed è il testo del Siracide, ma secondo la versione dei settanta, che dice appunto Inizio di ogni peccato è la superbia. Allora, come risolvere questo conflitto? Cosa c'è all'origine dei vizi? La superbia o l'avarizia? Vedremo subito poi che c'è un forte legame tra superbia e avarizia. Ma qui per ora possiamo dire che generalmente i monacentichi cercavano di conciliare queste due parole della scrittura, tentando di far avanzare insieme questa coppia diabolica, come duplice sorgente della malvagità. Allora possiamo dire così. C'è una radice da cui ogni male trova la sua linfa per crescere. E questa è la cupidigia, la brama del possesso. Ma c'è un germoglio, un inizio da cui prende forma l'albero che offre poi i suoi variegati frutti di malvagità. E questo è l'orgoglio. D'altra parte, ecco, possiamo dire che l'avarizia in ogni caso è diventata un po' la personificazione di questo amore smodato di se stessi. Questo irrefrenabile desiderio, ecco, che cerca di coltivare il proprio io. Ecco perché possiamo davvero considerarlo l'inizio, l'origine, la fonte di ogni vizio. Anzi, potrebbe essere considerata l'avarizia la quintessenza dell'egoismo. Un egoismo insaziabile. Un potere, una idolatria che riescono quasi a materializzarsi stabilmente in un simbolo, quello del denaro. Perché in greco avarizia, in italiano dall'impressione piuttosto di un atteggiamento globale di vita, ma in greco è amore del denaro. Il denaro. E che in questo senso l'avarizia potrebbe essere considerata come un vizio trasversale. C'è una sorta di linfa presente in ognuno poi degli altri vizi, in quanto espressione proprio di quella brama del proprio io, che è il vero volto nascosto, la maschera di tutti i vizi. Interessante che è quello che in fondo è stato sempre più, anche nel Medioevo, più bastonato dai predicatori. Se uno regge le prediche dei, appunto, i frati medievali, l'avarizia è quello più bastonato. Perché? Probabilmente anche perché ha una ricaduta sociale molto più forte. ecco, tra i pensieri malvagi è quello che più ha influito sulle dinamiche socioeconomiche, in quanto per oggetto una delle realtà che maggiormente condiziona l'esistenza dell'uomo, sia a livello individuale che a livello relazionale. Appunto, è il denaro come espressione dei beni materiali. Il denaro, il suo utilizzo, l'abuso che si fa di esso. Ecco, tutto questo tocca direttamente la vita dell'uomo, proprio nelle sue dimensioni più quotidiane. È stato interessante quando ho chiesto all'editore per curiosità quali erano i vizi più ventuti, ecco, mi hanno detto l'avarizia e la tristezza. Ho chiesto, e la lussuria? Pochissimo. Interessante questo, perché fa vedere proprio come oggi si percepisce anche più a livello di relazioni, più a livello anche di futuro, la tristezza, l'impostazione di vita, ecco, l'incidenza di un vizio rispetto alla lussuria che forse è sempre più relegata alla sfera individuale quando è considerata vizio. Dunque, si può anche comprendere perché gli autori antichi, i padri della Chiesa, i monaci, sono stati molto attenti a questa dimensione sociale etica del denaro e del suo uso. Ecco, certamente, la posizione dei padri non è una semplice analisi socio-economica. Il loro punto di vista sul tema della ricchezza e del loro rapporto con la povertà parte dalla scrittura, dal messaggio evangelico, dalla relazione con la parola e la vita di Cristo. Però hanno compreso molto bene che il denaro condiziona terribilmente la vita degli uomini. Soprattutto perché il denaro può diventare un idolo. E allora possiamo dire, proprio in questa apertura, che il vero pericolo nascosto sotto la maschera dell'avarizia, pericolo appunto da cui i padri e gli antichi monaci mettono continuamente in guardia, è l'idolatria. La sfida idolatrica di chi si illude di possedere la vita ponendola sotto la signoria del denaro e dei beni materiali. E in questa idolatria l'avarizia rivela proprio la sua pericolosità. Perché? Perché è anzitutto una malattia dell'anima, in quanto sostituisce nel cuore dell'uomo l'immagine di Dio con l'immagine dell'idolo, che i padri vedono simbolicamente espressa nell'effigie del denaro. L'avarizia perverte il processo di crescita spirituale dell'uomo, capovolgendo nei termini. L'uomo non si trasforma in immagine di Dio, ma ad immagine dell'idolo. E così ostacola l'azione dello spirito che plasma in noi l'immagine dell'uomo nuovo creato secondo l'icona di Cristo. Ecco, questo serve un po' da introduzione. Ecco, vorrei innanzitutto prendere qualche accenno alla scrittura. Ecco, come la scrittura? Abbiamo già citato un versetto di Paolo della Prima Timoteo, come la scrittura vede il rapporto con il denaro e di conseguenza anche le modalità dell'uso. Beh, sappiamo che nell'Antico Testamento c'è una visione molto positiva della ricchezza come benedizione di Dio, non mi soffermo su questo, anche se, appunto, c'è sempre una messa in guardia ecco, sul modo di rapportarsi al denaro. Soprattutto quando e qui in particolare i libri sapienziali si attarrano su questo aspetto, quando questo cattura il cuore dell'uomo. Cito solo un testo Siracide 31 L'insonnia del ricco consuma il corpo i suoi affanni gli tolgono il sonno un ricco fatica nell'accumulare ricchezze e si riposa e per darsi ai piaceri chi ama loro non sarà esente da colpa chi insegue il denaro ne sarà fuorviato molti sono andati in rovina a causa dell'oro e la loro rovina era davanti a loro è una trappola per quanti ne sono infatuati e ogni insensato vi resta preso ecco la vita di un ricco proiettata interamente nell'accumulo dei beni ci ricorda il libro di Siracide un'esistenza avvolta dall'inquietudine insidiata dalla colpa e dalla rovina e allora per il saggio di Siracide appunto l'unica possibilità che un ricco ha di vivere una vita buona sta nella consapevolezza del pericolo e dell'ambiguità insite nelle ricchezze che possibili ecco in fondo i libri sapienziali non chiedono al ricco di liberarsi dei suoi beni ma piuttosto di guardarsi dal far dipendere da essi la vita e di metterla sempre in relazione con la legge di Dio un po' diversa è la posizione dei profeti di fronte ad una vita catturata dalle ricchezze che può trasformarsi e col pericolo in una autosufficienza e una sfida a Dio la parola profetica colloca la vita del povero come espressione di una fede che apre l'azione salvifica di Dio e anche qui come avviene per la ricchezza non è la povertà in se stessa rendere l'uomo disponibile verso Dio ci ricordano i profeti e la scrittura non manca di ricordare come la povertà può abbruttire può essere occasione di maledizione può far abitare nel cuore dell'uomo odio invidia avidità è lo sguardo di Dio sui poveri a rendere questi ultimi disponibili a quell'umiltà che libera da ogni autosufficienza idolata ecco questo processo di interiorizzazione di un atteggiamento che è quello appunto dell'umiltà emerge chiaramente nella parola di Gesù e qui davvero c'è una potremmo dire uno spartiacque ecco Gesù dà una definizione della ricchezza che è molto dura la ricchezza è disonesta e non si riferisce tanto al fatto che questa ricchezza può essere guadagnata in modo disonesto non è a questo livello è disonesta perché illude perché non mantiene la promessa la promessa di possedere la vita la promessa di poter gestire autonomamente la vita no la ricchezza non può mantenerla questa promessa ecco conquista la fiducia dell'uomo per poi diluderlo ecco questa è la connotazione di disonestà della ricchezza che ben si adatta anche a quel termine che Gesù utilizza mammona che è più della semplice ricchezza la mammona ecco nel linguaggio semitico è l'accumulo esagerato mai sazio quell'accumulo che fa da padrone riempiendo tutto l'orizzonte della vita a questo riguardo ecco c'è una parabola che potrebbe introdurci molto bene a capire anche le dinamiche dell'avarizia e della parabola che penso conosciate del ricco stolto ecco la parabola di Luca 12 ecco interessante per questa parabola ci presenta anzitutto una dinamica molto interessante nel racconto non c'è vere e proprie azioni ma tutto si svolge attraverso un ragionamento che l'uomo ricco fa tra sé egli ragionava tra sé che farò farò così poi dirò me stesso ecco il singolare dialogo di questa amore smodato verso di sé il ricco non ha bisogno di interlocutori ma è sufficiente a se stesso per trovare risposte ai problemi assillanti appunto procurati dall'accumulo delle ricchezze questo dialogo che non vede altri apparenti interlocutori se non l'io smisurato dell'uomo rivela anche il luogo in cui ormai la ricchezza accumulata è custodita lo scrigno in cui custodire tutti i beni ammassati non sono tanto i granai o i magazzini che alla fine poi sono sempre limitati per raccogliere l'insaziabile desiderio di possesso ma è il cuore abitato ormai da quella avidità che lo rende spazio senza limiti e nel cuore ci possono stare infinite ricchezze nel ragionamento dell'uomo ricco possiamo scorgere il luogo allora e la radice del pensiero dell'avarizia un cuore schiavo della cupidigia di quella avidità senza freni che non cessa di ammassare ricchezze per assicurarsi la sostanza della vita e quest'uomo non bastano più i magazzini che possiede per accogliere i suoi beni se ne deve costruire altri che poi alla fine non saranno ancora sufficienti il suo inutile solilocchio si trasforma davvero in una programmazione illusoria del futuro in cui emerge accanto a questa apparente sicurezza data dai beni alla fine una grande inquietudine una preoccupazione appunto per conservarli interessante il commento che fa San Basilio a questo passaggio e immagina il ragionamento di questo avaro le pareti dei granai ormai troppo anguste per l'abbondanza delle provviste crollavano ma il cuore avaro non si appagava con l'aggiunta di nuove ricchezze a quelle vecchie con i proventi di ogni anno aumentava l'abbondanza cadde in questo dilemma dal quale non sapeva come districarsi non voleva privarsi del vecchio per avarizia non poteva raccogliere il nuovo a causa dell'abbondanza perciò si scervellava senza prodare nulla che farò chi non si commuoverebbe per un uomo così assediato atterrito dalla prosperità e misero per i beni che possiede ancora più misero per quelli che aspetta e credo che qui San Basilio tocchi davvero lo riprenderò subito una situazione esistenziale dell'avaro misero e povero è un vizio inversamente proporzionale uno pensa di arricchirsi ma alla fine la sua vita è sempre più povera sempre più potremmo dire ripiegata su se stessa non feconda ecco vorrei ora completare questo sguardo globale sull'avarizia offertoci così da questo accenno alla scrittura in particolare alla parabola di Luca da alcune sottolineature che fanno i padri della chiesa cito essenzialmente un testo molto interessante un padre poco conosciuto Zenone di Verona vissuto nel quarto secolo e come pastore ha dovuto affrontare il male dell'avidità che intacca la vita sociale l'economia le relazioni assumendo poi forme diversificate seconda dello stato sociale delle persone ecco nel passo che vorrei citare viene evidenziato proprio questo aspetto dell'avarizia come vizio non privilegia particolari categorie sociali ma si rivela come un male di tutti perché la bramosia del possedere di fatto è nascosta nel cuore dell'uomo cambiano solo i sotterfugi cambiano solo le maschere con cui l'avarizia si propone perché come suggerisce Zenone l'avarizia è una incantatrice ecco così strumentalizza la vita di ognuno e leggo il testo magari potesse l'avarizia non essere amata con la stessa facilità con la quale da tutti viene biasimata è infatti un male dolce e pieno di risorse dannoso sempre a tutti gli uomini senza eccezione tant'è vero che in chi non ha ricchezze infonde la brama di possederle a chi le possiede impedisce di esserne sazio precipita tutti ad un tempo e un tale furore che tu ignori dove ne regni uno più grande è simile ad un fuoco che divora gli aree di pascoli e se non li consuma del tutto non cessa e così passa in elenco a varie situazioni sociali quelle di modesta condizione la praticano con le frodi i ricchi con la prepotenza i giudici con la parzialità gli eloquenti con la lusinga venale menzognera i re con la superbie i commercianti con l'astuzia i poveri con i vani desideri gli adoratori di Dio fingendo di odiarla tutti i popoli tutte le nazioni senza eccezione ricorrendo alla spada per tutta la terra si scatena furiosa fertile di nuovi e vari artifici giammai tranquilla né di giorno né di notte né in guerra né in pace giammai sazia più povera per gli smisurati guadagni è un nuovo genere di calamità che può soltanto crescere e non invecchia mai ecco un primo ritratto dell'avarizia o direi dell'uomo avaro e dopo averla guardata allo specchio vorrei ora soffermarmi su qualche aspetto che la caratterizza per poi cogliere le sottili dinamiche che permettono a questo pensiero malvagio di impossessarsi del cuore della vita di un uomo perché l'avarizia è più di ogni altro vizio alla forza di catturare il cuore dell'uomo poiché riesce a dare concretezza a quel desiderio che è la causa appunto di ogni passione l'egoismo elenco così alcune caratteristiche dell'avarizia come appaiono anche dai testi dei padri e degli altri autori monastici la prima caratteristica può sembrare molto strana ma è il fatto che i padri ci dicono che l'avarizia è innaturale cioè in fondo è al di fuori della struttura umana ecco può stupire questa affermazione l'avidità sembra dimorare lo dicevamo nel cuore dell'uomo ma è anche vero che il desiderio di possedere e accumulare è sempre proiettato su qualcosa che è al di fuori di sé a differenza del desiderio sessuale o del bisogno di cibo pulsioni strutturali all'uomo c'è un testo di Cassiano Giovanni Cassiano che sottolinea molto bene questo aspetto innaturale ecco lui dice che in fondo alcune passioni appaiono come vizi naturali ad esempio alcune manifestazioni legate alla sessualità oppure agli stessi moti dell'ira che si ritrovano anche nei bambini cui manca ancora il discernimento tra bene e male altri vizi come l'avarizia dice Cassiano si formano in noi senza alcuna causa naturale precedente ma unicamente per la decisione di una volontà corrotta e malvagia come nel caso dell'invidia e dell'avarizia che non avendo origine in noi da qualche impulso naturale vengono contratte dall'esterno dunque questo cosa evidenzia evidenzia una maggiore responsabilità dell'uomo l'avarizia appare in un certo senso un vizio scelto dall'uomo un secondo aspetto proprio partire da quanto appena detto è questo il protagonista dell'avarizia è il proprio io nell'avarizia si è intrappolati nei lacci del proprio io concentrati su di sé tutto viene visto e usato a partire da se stessi ecco dicevo all'inizio è la quintessenza dell'egoismo ecco perché è radice di ogni male ecco nell'avaro l'io diventa come cieco incapace di vedere al di fuori di sé tutto ciò che lo circonda è visto in relazione a sé e dunque tutto diventa mio dice Giovanni Crisostomo mio e tuo sono fredde parole che introducono nel mondo innumerevoli guerre mio e tuo sono soltanto parole senza fondamento reale porta questa espressione di Giovanni Crisostomo mio e tuo parole fredde e irreali perché non riconoscono la realtà della alterità dell'altro diverso da me perché non riconoscono la necessità della condivisione ecco ridurre tutto a se stessi ergere se stessi come misura di ogni cosa rende falso il rapporto con la realtà chi ha visto o ha in mente la saga del Signore degli Anelli qual è l'espressione che ritorna spesso in smigol gollum mio tesoro mio ma come proprio questa continua ripetizione che mette se stessi al centro alla fine distrugge distrugge quell'essere mio tesoro questo io che al centro dell'avarizia è insaziabile deve essere continuamente nutrito e qui deriva una terza caratteristica l'eccesso un po' in tutti i vizi c'è l'eccesso certamente ma qui si manifesta anzitutto in un bisogno senza freno di moltiplicare di aumentare ciò che si possiede in fondo l'avarizia ha la stessa dinamica dell'ingordigia ma mentre l'ingordigia ha un limite dato dalla natura umana non possiamo riempirci più di tanto altrimenti scopriamo che l'avarizia non conosce sosta o confine in questo senso l'avaro non è mai sazio in quanto l'oggetto del suo desiderio non riesce ad appagare la sua fame altro volto dell'eccesso dell'avarizia è l'accumulo ecco un altro aspetto per l'avaro cioè i beni moltiplicati non sono in vista di un uso ma di una conservazione e questo è davvero un aspetto che caratterizza l'avarizia perché lo distingue dal semplice possesso di ricchezze spinge a conservare per sé ciò che sia accumulandolo e sottraendolo agli altri ecco sembra quasi che per l'avaro il denaro i beni materiali abbiano valore se sono lì fermi accumulati ammassati in fondo l'avaro è un contemplativo ecco ammira i suoi beni sono oggetto da contemplare la sola vista genera godimento in un certo senso questa è l'unica gioia elargita dall'avarizia non ce ne sono altre perché tutto il resto è tristezza e qui vediamo che davvero è una contraddizione già possiamo intuire se si vuole anche la terapia poi dell'avarizia che è una contraddizione della vita dell'uomo ogni bene che si possiede deve trasmettere la vita a se stessi e agli altri ecco in fondo è questo una dinamica stessa insita nella vita che la rende feconda bloccare questa dinamica vuol dire morire e qui si rivela ancora un altro tratto dell'avarizia la stoltezza perché ammassare e possedere beni per non usarli per non godere di essi è umanamente stupido ma la stoltezza dell'avarizia direi è molto più profonda l'ho già evidenziata commentando la parabola del ricco stolto così lo chiama Luca la stoltezza dell'avarizia emerge chiaramente dal confronto tra la falsa ricchezza accumulata quella che illude di possedere la vita e quella vera quella che è per la vita quella che contiene in sé la vita così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio la vita infatti vale più del cibo il corpo più del vestito vendete ciò che possedete e datelo in elemosina fatevi borse che non invecchiano un tesoro sicuro nei cieli fatevi degli amici con la ricchezza disonesta perché quando questa verrà a mancare essi vi accolgano nelle dimore eterne ecco il senso della vita è presso Dio lì si scopre che la vita vale molto di più di ciò che si possiede in quanto i beni materiali pur servendo all'esistenza non ne esauriscono o non ne svelano in profondità il senso e per di più ogni ricchezza che si possiede la quale resta pur sempre ambigua e illusoria può comunicare la vita solo se la si condivide con gli altri e in particolare con chi è nel bisogno i poveri questa maschera di falsità e di inganno che copre il volto dell'avarizia offre a questo pensiero malvagio un'altra caratteristica che è quella della ambiguità spesso l'avarizia si nasconde dietro motivazioni ragionevoli e di per sé buone pensiamo per esempio alla parsimonia o addirittura alla sobrietà non sprecare denaro inutilmente oppure sapersi accontentare di poco certo tutto questo può essere segno di autentica povertà di rispetto delle cose di attenzione agli altri ma ciò che cambia è la direzione è proprio il motivo per cui si fanno si possono fare per essere liberi non catturati dalle cose per il regno dei cieli oppure perché si è così attaccati alle cose che si ha paura di usarle quante volte avidità e taccaneria diventano sinonimi di oculato utilizzo di beni gestione economica saggia senso di responsabilità verso gli altri in fondo non accumulo per me ma per i miei figli in fondo diventano una virtù risparmiare non è peccato anzi quando nasce da un'autentica responsabilità verso le cose verso gli altri quando si prende sul serio la vita la sua precarietà ma risparmiare solo per possedere avere con il piacere di vedere le proprie ricchezze non utilizzate crescere di giorno in giorno questo è avarizia e con l'ambiguità dell'avarizia è così subdola e sottile che non risparmia neppure i beni spirituali anche l'uomo spirituale colui che ha orientato la sua vita verso quelle borse che non invecchiano verso quel tesoro nascosto nei cieli può essere vittima dell'avarizia i mistici in particolare Giovanni della Croce mettono in guardia da una avarizia spirituale che ha come oggetto di attacco i doni stessi di Dio le forme possono essere diverse ci si attacca quasi morbosamente ai doni di Dio si è l'angoscia di esserne privati si è avidi nell'accumulare mezzi di perfezione per assicurarsi nel possesso fondamentalmente colui che è avaro dei doni di Dio che Dio gli ha elargito tende a trattenere per sé ciò che è in vista della crescita spirituale comune un carisma un carisma non è mai solo per se stessi ma ha sempre un risvolto ecclesiale un carisma tenuto per sé potremmo dire accumulato nella borsa della propria vita spirituale non condiviso è alla fine una porta aperta alla vana gloria e all'orgoglio i padri dicono è meglio essere poveri di doni ma umili e liberi interiormente piuttosto che possedere carismi compiacersi in essi e diventare orgogliosi c'è un testo di Isacco il Siro che può diventare anche un criterio di discernimento proprio di fronte al modo con cui ci si rapporta con i doni spirituali se hai lavorato bene davanti a Dio ed egli ti ha elargito un dono per la rettitudine davanti a lui al fine di stimolarti ancora più e darti gioia imploralo o che ti dia la conoscenza perché tu sappia quanto è necessario essere uno o che su quel dono sia stabilito un custode oppure che ti sia ripreso perché non sia per te causa di perdizione non è da tutti infatti custodire una ricchezza senza riceverne danni mai dimenticare che non è da tutti custodire una ricchezza senza riceverne danni un monumento che dovrebbe essere sempre di suonare agli orecchi di tutti coloro che sono tentati di accumulare e trattenere per sé qualunque tipo di ricchezza infine l'ultimo aspetto della avarizia è una passione triste ho già sottolineato perché crea un percorso di angoscia e di infelicità alla fine ciò che dovrebbe rassicurare il denaro i beni posseduti genera nell'avaro esattamente il contrario ansia paura insicurezza inquietudine ecco questo è il clima della vita allora qui possiamo domandarci ma come vive l'avaro quali sono i meccanismi dell'avarizia che tipo di vita conduce appunto colui che ne è intaccato potremmo dire ridurre tutto a questa espressione di Gesù dov'è il tuo tesoro la sarà anche il tuo cuore ridurre l'avarizia ad un abuso nella relazione con il denaro è illusorio i meccanismi dell'avarizia gli eccessi che essa trascina dietro a sé raggiungono appunto il cuore dell'uomo e da questo luogo interiore ripartono poi per plasmare tutta la vita e appunto come vive l'uomo avaro beh anzitutto l'avarizia trasforma la vita in una affannosa e insaziabile ingordigia di beni materiali l'abbiamo già sottolineato si vive per accumulare beni e denaro e l'accumulo dei beni diventa la ragione stessa della vita ma una conseguenza di questa avidità che vincola strettamente la vita ai beni è l'illusione che la propria vita dipenda da ciò che si possiede Gesù ci ricorda che la vita è al di là di ciò che la compone in quanto la sua origine e il suo segreto sono custoditi nelle mani di Dio anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che egli possiede perché la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito però questo lavaro non riesce a coglierlo e non riesce a cogliere il cuore della vita tanto che la sua preoccupazione per ciò che sembra sostenere la vita prende il sopravvento ma far dipendere la vita da ciò che si possiede è un'amara illusione ecco allora un altro tratto dello stile di vita dell'avaro una vita illusoria come è virtuale il denaro che si possiede non dimentichiamolo che il valore è dato dagli uomini e da esso dipende abbiamo esperienze in questi ultimi tempi di cosa vuol dire il valore virtuale del denaro tanto che adesso non si usa più quasi denaro ecco tutto virtuale dunque come è virtuale il denaro come non sono durature i beni che si accumulano così anche la vita che poggia solo su di essi riceve da essi fragilità e inconsistenza la ricchezza Gesù ce lo ricorda e questo vuol dire disonesta non mantiene mai ciò che promette non mantiene la vita e chiudendo la vita dell'uomo appunto in questo cerchio mortale l'avarizia rende la vita falsa ingiusta violenta senza amore soprattutto dall'avarizia dice Gregorio Magno solgono tradimento frode falsità spergiuri inquietudine violenze durezza di cuore nell'esercizio della misericordia e Todoro Studita ricordando in una catechesi Giuda dice l'avarizia è l'officina del tradimento ogni passione conduce in forme diverse alla violenza all'ingiustizia perché appunto questa brama di possesso è refrenabile non conosce limiti ogni ostacolo che si frappone ad essa deve essere abbattuto a qualunque costo a qualunque mezzo e quando entra in gioco l'avidità dei beni del denaro allora quanta violenza ecco si viene a perpetrare ecco penso che non c'è bisogno di fare esempi quante famiglie ecco si distruggono per questo possesso dei beni c'è le parole dure dell'apostolo Giacomo quando dice con linguaggio infuocato da dove vengono le guerre le liti che sono in mezzo a voi siete pieni di desideri e non riuscite a possedere uccidete siete invidiosi e non riuscite ad ottenere combattete fate guerra non avete perché non chiedete chiedete e non ottenete perché chiedete male per soddisfare cioè le vostre passioni non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio potremmo anche domandarci qual è il tempo della vita maggiormente insidiato dall'avarizia beh di per sé l'avarizia non conosce un tempo preciso perché appunto è nascosta nel cuore dell'uomo cambiano le forme le modalità dunque ogni tappa della vita può manifestare un volto dell'avarizia però sembra che una tappa in particolare offra maggiore occasione a questa passione ed è la vecchiaia perché la vecchiaia forse perché nella vecchiaia l'avarizia non ha più paura di mostrare il suo vero volto o forse perché dopo aver passato tutta una vita ad accumulare beni e denaro nella vecchiaia si diventa più consapevoli del desiderio che ha orientato tutta la propria esistenza sta di fatto che nell'immaginario popolare nella letteratura nella pittura il vecchio ormai prossimo alla morte ma pur tuttavia attaccato al suo denaro sembra il tipo classico dell'avaro ecco ma forse questo al di là certo non è un giudizio sugli anziani mancherebbe ancora ma è interessante perché proprio la relazione con il tempo ci fa comprendere come la vecchiaia possa essere più vulnerabile al pensiero dell'avarizia chi accumula per il futuro pensando la sua precarietà e alla vecchiaia che dovrà affrontare quando diventa vecchio non può far altro che attaccarsi a ciò che è ammassato convinto che questi beni lo salveranno gli assicureranno il tempo che gli resta e un'ultima domanda quale spazio nella vita viene invaso dall'avarizia ecco sembra che l'avarizia limiti l'oggetto della sua passione i beni materiali il denaro ecco ma penso che non dobbiamo dimenticare che i beni il denaro sono sempre in relazione con tutta la vita e che su di essa l'avarizia sfoga la sua bramosia che di fatto investe allora molti altri aspetti interessante questa osservazione che viene fatta da un autore riguardo una figura che tutti conosciamo Don Abbondio dei promessi spose e questo autore dice appunto nel suo caso non si tratta di brama di denaro ma la dinamica che lo caratterizza è simile alla grattezza propria dell'avaro scegliere uno stato di vita per trovarsi al sicuro da ogni incertezza l'avarizia come un fiume che si ramifica arriva dunque a toccare le situazioni più diverse della vita allora vediamo che ci può essere un'avarizia di sentimenti di affetti quante persone non sanno fare gesti di gratuità di tenerezza di amicizia ritenendo questo inutile uno spreco di umanità ci sono alcuni che sono avari del tempo certo dare tempo agli altri è sottrarlo a se stesse ma questo si chiama gratuità anche nella vita spirituale può emergere questa avarizia del tempo si calcola molto bene il tempo della preghiera affinché non venga a sottrare troppi minuti alle cose che si devono fare altri invece con la giustificazione del lavoro non sanno dare tempo alla festa allo stare con gli altri al riposo anche in questo caso è tutto spreco sottratto ai propri interessi semmai si fanno cene di lavoro ecco ma non si spreca il tempo in una cena tra amici cena di lavoro interessante questa modalità oggi di vivere anche il pasto ci sono persone che non sanno concedere ad altri un po' del loro spazio questo deve essere ben difeso non deve essere sottratto da nessuno altri invece bastano a se stessi non hanno bisogno di altri il loro ruolo è sufficiente per vivere non chiedono aiuto perché non ne hanno bisogno in quanto hanno accumulato tutto ciò che basta per la loro vita ecco potremmo andare avanti in queste esemplificazioni ma in fondo ognuna di queste dimostra una verità la varizia è un modo di essere perché nasce dal cuore dell'uomo dunque non è solo questione di ricchezze ma di avidità di desiderio di possedere e sappiamo bene che sono tante le cose che si possono possedere a cominciare da se stessi qual è la terapia ma in genere quando si leggono questi test dei padri la prima impressione è ma non è possibile guarire da queste malattie invece i padri sono molto più molto più realisti di quello che forse anche il loro linguaggio può dare ad apparire e c'è un primo passaggio che questo vale per tutti i visti il primo passaggio di guarigione sta nel fatto di dare un nome ai vizi e non mettere maschere cioè non chiamare come dicevo prima risparmio quello che invece è avarizia cioè avere coraggio di guardare in faccia e i padri in genere dicono sei già a metà della guarigione perché dopo si comincia a camminare verso la guarigione certo sono molti anche poi consigli più precisi ecco io non mi soffermo il tempo passa ecco penso a quello che può essere tutto l'atteggiamento di sobrietà di libertà dalle cose la capacità di usare delle cose perché il problema nei vizi non sono le cose in sé ma il loro abuso le cose hanno una loro potremmo dire bontà ma anche una loro ambiguità sono neutre dipende da come cascano nelle mani dell'uomo e dunque un consiglio è quello di saper mettere uno spazio tra noi e le cose per essere liberi certo un passaggio una terapia più radicale è quella della rinuncia delle cose che porta poi a una scelta precisa che caratterizza anche certe forme di vita che è la povertà ecco la rinuncia dei beni materiali in modo radicale una scelta libera una chiamata specifica nella sequela di Cristo ma direi che in certa misura ha un valore per tutti anche per chi deve traffigare i beni di questo mondo e allora assume la forma di una scelta quotidiana nel mettere al centro Dio e non i beni o il denaro pur dovendoli usare scegliere tra Dio e Mammona è l'alternativa che Gesù pone di fronte a ogni discepolo le astuzze del pensiero dell'avarizia sono molto sottili quante volte quotidianamente si tenta di conciliare Dio e Mammona con acutezza il filosofo Søren Kierkegaard riferendosi al testo di Matteo 6 24 dice nessuno dica Dio e Mammona non sono talmente in contrasto da rendere impossibile conciliarli tra di loro costruire non c'erebbe a scegliere scegliere l'uno e l'altro insieme significa disertare dall'obbligo della scelta e cadere nella perdizione perciò l'uomo non può non scegliere nel suo cuore si svolge una terribile battaglia tra Dio e il mondo la facoltà di scelta è la sua condizione condizione magnifica ma estremamente rischiosa qual è allora la felicità riservata la scelta ben fatta o per dirla in altri termini la felicità che bisogna scegliere essa consiste nel regno di Dio e nella sua giustizia per questa felicità dobbiamo rinunciare a tutto tanti milioni e uno solo soldo non fanno differenza giacché se si preferisce a Dio un solo soldo si sceglie Mammona perché l'uomo non serve a Mammona bisogna che nonostante cardi la lana fili e tessa cioè lavori dunque utilizzi i beni di questo mondo sia come il giglio che non carda non fila non tessa bisogna che nonostante semini mieta e ponga raccolto nei granai sia come l'uccello che non semina non miete e non ammassa nei granai cioè sia libero ma direi che c'è una terapia molto più radicale e forse anche più positiva perché in fondo la sobrietà la rinuncia la libertà è sempre un passaggio che connota in sé qualcosa di negativo non chiaramente per disprezzo dei beni materiali ma sempre forse con una paura che questi si impossessano del cuore dell'uomo ecco direi che c'è una terapia molto più positiva che è saper donare che è la gratuità che è la condivisione direi che proprio è il balsamo sulle ferite dell'avarizia il Signore ama chi dona con giorno ecco nella prospettiva del dono come risposta alla gratuità di Dio come obbedienza alla logica stessa della vita perché la vita è fatta di dono si rivela direi in profondità la convinzione dei padri a riguardo della terapia che guarisce radicalmente l'avarizia ecco passare dalla logica del possesso a quella del dono alla fine ottiene ciò che l'uomo in mille modi cerca dalla vita la felicità si è più beati nel dare che nel ricevere ricorda Paolo agli anziani di Efeso nel suo discorso di addio a Mileto una parola del Signore che ci rivela una verità profonda la felicità la gioia sono la ricompensa interiore del dono in quanto attraverso di esso si entra nel mistero stesso della vita che è fecondità e creatività e a questo mistero partecipa ogni bene materiale quando esso viene donato esso si trasforma nel centoplo promesso da Gesù a colui che ha lasciato tutto per seguirlo si trasforma nel tesoro sicuro nel regno dei cieli per chi ha dato in elemosina ciò che possiede i beni e qui cito un economista Zamagni diventano beni cioè cose buone quando sono messi in comune i beni non condivisi sono sempre vie di infelicità persino in un mondo opulento il denaro tenuto stretto come geloso possesso in realtà impoverisce il suo possessore perché lo spoglia della capacità del dono l'avaro per definizione non riesce a donare e dunque non può essere felice in fondo l'avaro segue la via opposta a quella parola del Signore riportata in atti via che conduce inevitabilmente all'infelicità e questo è il paradosso dell'avarizia e vorrei terminare lasciando così uno spazio anche a domande con un testo un racconto un racconto collocato nella sua serie di racconti dal scrittore russo Liev Talstoi ed è intitolato così forse l'avete già sentito Cosa fa vivere gli uomini questo racconto narra di un angelo che a causa della sua disobbedienza fu mandato da Dio sulla terra a vivere con gli uomini condividendo le loro fatiche vivendo come un uomo ma il motivo profondo di questa discesa nell'umanità era di comprendere cosa fa vivere gli uomini e disse il Signore conoscerai tre parole conoscerai quello che c'è negli uomini e quello che agli uomini non è dato e cosa fa vivere agli uomini quando l'avrai saputo tornerai in cielo e l'angelo assume le sembianze umane inizia la sua avventura tra gli uomini come un mendicante ai bordi di una strada tutto infrettolito senza nulla per coprirsi viene accolto da un povero calzolaio da sua moglie viene rivestito con gli abiti stessi che servivano quei poveri per coprirsi e viene sfamato accetta di vivere nella loro misera casa impara il mestiere di calzolaio e sta con loro per lungo tempo e proprio in questo tempo passato con dei poveri nella quotidianità di una vita fatta di fatica ma anche di semplice condivisione trova il contenuto di quelle parole che Dio gli aveva consegnato lo trova nell'accoglienza del calzolaio e di sua moglie che gli hanno riservato lo trova nell'incontro con un uomo ricco il quale pensava di aver bisogno di un paio di stivale che gli durassero per un anno e poi muore nel giorno stesso in cui li ha ordinati lo trova nella compassione di una donna che si prende cura di due bambine orfane le ha latta e le fa crescere dunque nella vita degli uomini nel modo in cui sanno scoprire ciò che serve veramente per vivere trova il senso di quelle parole che gli erano rimaste fino ad allora nascoste e prima di salire in cielo così conclude e leggo il testo del racconto ho conosciuto che ogni uomo è vivo non per la cura che egli può avere di sé ma perché è l'amore che lo fa vivere non era dato alla madre di sapere che cosa occorresse alle due figlie per poter vivere non era dato al ricco di sapere di che cosa avesse bisogno e non è dato a nessun uomo di sapere se prima di sera gli occorreranno degli stivali fatti per un vivo o delle ciabatte da morte ero rimasto vivo quando ero uomo non perché avessi pensato a me stesso ma perché vi era amore nell'uomo che mi era passato accanto e nella moglie di lui e perché loro ebbero compassione di me e mi volero bene erano rimaste vive le orfane non perché qualcuno avesse pensato a loro ma perché vi era amore nel cuore di una donna a loro estranea e lei ebbe compassione e volle bene a loro e sono vivi tutti gli uomini non perché sappiano pensare a se stessi ma perché vi è amore negli uomini io prima sapevo che Dio ha dato la vita agli uomini e vuole che vivano adesso ho capito anche un'altra cosa ho capito che Dio non ha voluto che gli uomini vivessero ciascuno per proprio conto e perciò non ha insegnato loro capire ciò di cui ognuno ha bisogno ma ha voluto che vivano tutti insieme in concordia e perciò ha rivelato loro di che cosa abbiano bisogno tutti quanti loro stessi come anche tutti gli altri ho capito adesso che agli uomini sembra di poter vivere per tutte le cure che hanno di sé ma in realtà sono vivi soltanto perché è l'amore che li fa vivere chi è nell'amore è in Dio e Dio è in Lui perché Dio è amore è in Lui